Blogos Web Radio Oggi i candidati delle classi quinte si presenteranno E cercheranno di convincere i loro compagni a votarli Entriamo ed andiamo a sentire cosa ci raccontano Allora, sapete più o meno che cosa facciamo qui oggi? Ci lamentiamo Ci lamentiamo dei difetti Ci preoccupiamo dei prodotti Ma facciamo sempre solo delle cose negative? No, ma non è vero Perché oggi dobbiamo eleggere i ragazzi della scuola bruciare Che vadano al consiglio di città E noi portiamo il nostro contributo Loro sono i rappresentanti della scuola Ma dopo cosa devono fare? E ci devono raccontare quello che hanno sentito là Se non ce la raccontano, tanto vale che non li mangiare là Allora, i ragazzi di questa Spiegano ai loro colleghi Quali siamo qui a fare? Allora, amici tu, Isabella? Chi è seduto? Quelli che adesso dovranno eleggere Chi andrà al consiglio di città Quindi questi sono gli elettori? Esatto E perché siamo noi gli elettori e non loro? Perché noi siamo, diciamo Che siamo stati eletti Per il consiglio della scuola E quindi dobbiamo leggere loro Voi siete gli elettori dei ragazzi Che vi diranno perché vogliono essere letti Quindi ognuno vi farà un piccolissimo discorso E vi dirà Io mi chiamo così E vorrei essere letto per te Io mi chiamo Ronan Mi vorrei candidare perché mi impegnerò a scrivere da tutti Che mi saranno detti Io mi chiamo Daniele Mi candido perché voglio trovare una nuova esperienza Perché voglio rappresentare la mia scuola Io mi chiamo Daniele Mi voglio candidare perché voglio spiegare Quello che noi facciamo qui a scuola E dargli qualche consiglio per i loro problemi dell'altra scuola Mi vorrei candidare perché voglio portare avanti la nostra città Io mi chiamo Camilla E vorrei trovare l'esperienza di rappresentare la scuola E portare i problemi Io sono Giotto Mi vorrei candidarmi perché è il consiglio dei ragazzi migliori E vorrei farmi parte Mi vorrei candidare perché vorrei sapere cosa si fa E cosa si dice con semplicità E vorrei rappresentare la scuola Io ho candidato Mi candido perché mi piacerebbe fare una cosa nuova E perché nelle elezioni non ho avuto la maggioranza dei voti Mi piacerebbe molto cosa fare Io, mamma Tapparello Mi candido perché credo di stare attenta E avere tempo di andare alle feste in città Già nel martedì a vedere più Perché è fatto il sport Comunque credo di essere capace e stare attenta Se riesco ad avere più voti sarò felicissimo Io sono Giotto Io mi voglio candidare perché sono in grado di sfruttare cose E il bene in classe Io, Cattarina, mi candido per il consiglio di città Perché vorrei tanto vedere come ho fatto il consiglio di città Anche perché sono in grado di ascoltare E vi porterò perché mi metterò la scuola di quello che abbiamo parlato Mi chiamo Raquel Io mi candido al consiglio di città Perché vorrei fare nuove esperienze E vorrei anche fare nuove cose Mi candido perché mi sembra molto importante Anche importante Vorrei anche candidarmi perché è troppo bello Ieri sono andata a una giunione di partito della città E i consiglieri mi hanno ascoltato Mi hanno detto che avevo ragione E io sono stata molto contenta Perché era di città Io mi chiamo Vittoria Mi candido perché voglio sapere E si viene da città Io mi chiamo Luigi Mi candido perché mi piace Allora Voi dovete leggere Un maschio e una femmina Non è che non dovete leggere perché è bello C'ha gli occhi azzurri Oppure è bruno con gli occhi veri C'è quello che dice e come si presenta Se secondo voi è in grado Di rappresentare la nostra scuola Al consiglio di città Va bene? Penso che si siano presentati bene i candidati Gli elettori qui cosa pensano? Vabbè guarda io tutti i candidati Gli ho scritto tutti Ho scritto anche qua Cosa è scritto? Non forse Così mi ricordo meglio Che si dirà senza scelgo veramente Non esiste la regola Uno non si può votare Però io non me lo metto Perché non abbiamo mai detto È lievato votare No, quasi è lievato Soprattutto se devi votare o no Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì con Valentina, una volta Casamai ci va tu, una volta ci va lì. Invece in quinta B abbiamo due pari netto, Matteo So e Manu. Manu, Valentina, K. Quindi ci si metterà d'accordo e vediamo. Facciamo una domanda a Valentina, che ha vinto. Commenti a caldo, sei contenta? Molto. Te racconterai tutti i problemi, tutte le esigenze? Sì. C'è un tema secondo te che può interessare tutta Casalecchio, che ti piacerebbe trattare quest'anno? Non lo sai. Poi vedremo tutti quanti assieme. Siete bravissimi, siete organizzatissimi. Chiudiamo, salutiamo.